È stato presentato in conferenza stampa il nuovo progetto Casa Confartigianato, nuovo punto di riferimento che l'Associazione Provinciale di Ravenna ha deciso di mettere a disposizione di tutti gli imprenditori ad essa aderenti. Progetto che nasce come contenitore di tutti i vantaggi che il sistema Confartigianato è in grado di assicurare ai propri aderenti. In ogni sede dell'Associazione è stato individuato un ufficio ed alcuni operatori che saranno sempre aggiornati su queste convenzioni ed offerte e quindi potranno in modo semplice e diretto veicolarne la conoscenza e mettere in comunicazione l'interessato con la società o l'interrogante. La Confartigianato di Ravenna ritiene in questi momenti particolari dover sostenere ancora di più le proprie aziende quindi credo che un modo adeguato sia quello di ricercare nuove opportunità che possono accrescere la funzionalità delle nostre aziende associate e quindi pertanto abbiamo creato un nuovo servizio che appunto si chiama Casa Confartigianato dove i nostri associati troveranno tutte le opportunità che il nostro sistema mette a loro disposizione. In modo particolare quindi è un sistema ampio di convenzioni che oltre a quelle che la nostra Confederazione a livello nazionale ha creato farà sì che i nostri associati potranno avere condizioni assolutamente migliorative per quanto riguarda l'erogazione legata ai sistemi energetici quindi una convenzione particolarmente importante con Eracom e ad un nuovo prodotto importante legato ai sistemi assicurativi in collaborazione con il GPA Bisanzio. Due modalità importanti che possono veramente oggi fare la differenza sia per quanto riguarda il contenimento dei costi ma anche in modo particolare per la qualità dei servizi che i partner che collaborano con noi possono dare proprio per affrontare in modo più adeguato quelle che sono le esigenze dei nostri associati. Queste sono le prime situazioni che poi andranno integrate strada facendo e quindi Casa Confartigianato sarà veramente il luogo dove i nostri associati potranno trovare tutte le condizioni per le loro esigenze per essere sempre di più competitivi in questo mercato particolarmente gravoso e difficoltoso. È un progetto che nasce ovviamente in collaborazione con la Confartigianato di Ravenna nell'ottica di allargare lo spettro dei servizi che la Confartigianato intende prestare ai suoi associati. Lo slogan della Confartigianato è molto semplice e anche molto incisivo far crescere l'azienda, far crescere il socio e proprio da questo punto di vista noi abbiamo ritenuto molto importante prestare dei servizi per la gestione dei rischi in termini assolutamente nuovi quindi fortemente innovativi sotto il profilo del contenuto e molto competitivi sotto il profilo del prezzo. L'artigiano soprattutto in questo momento di credit crunch nel momento in cui il credito viene erogato in maniera molto molto modesta dal sistema bancario ha bisogno di ulteriori strumenti per avere un merito creditizio più ampio e avere un buon pacchetto assicurativo dimostrare alle aziende che erogano il credito di avere un'adeguata tutela è estremamente importante per raggiungere questo obiettivo. Era Comfin, la società di vendita per i servizi energetici fin dall'inizio ha investito su un importante canale nella relazione con le associazioni di categoria e proprio con Fortigianato Ravenna fin dall'inizio ha aderito a questa importante relazione attraverso un accordo che è basato su tre principali pilastri in particolare riferimento alla responsabilità verso il territorio e verso i clienti associati ma non solo, anche la competenza e l'innovazione nel ricercare sempre delle offerte e proposte per gli associati che possano rispecchiare un po' le proprie esigenze nell'ottica del risparmio sulle loro bollette per la fornitura di energia elettrica e gas in ultimo un importante tassello sul quale si basa questo accordo è la competenza del personale alla risposta verso tutte le richieste e le esigenze degli associati con questo accordo diciamo che sia l'Ato Era Com che con Fortigianato si è stretta un'importante intesa sempre nell'ottica di ricercare le migliori soluzioni per i propri associati e lo facciamo con anche offerte per esempio l'ultima nata a momento giusto attraverso il quale riusciamo a trovare sempre la giusta profilazione e risparmio in base ai consumi dei clienti Andrea Ianni per Ravenna Web TV grazie a tutti